Abbiamo concordato tutta una serie di interventi che partono ovviamente da un rafforzamento dei controlli soprattutto in alcune zone, seguirà brevissimo un tavolo tecnico, anche concordato con il sindaco che ci ha rappresentato la necessità di un intervento specifico per esempio su piazza Garibaldi, si interverrà anche nelle scuole, abbiamo concordato un piano di comitati nelle scuole ma soprattutto concorderemo delle misure sanzionatorie nel caso di vendita di alcolici a minorenni fino alla revoca della licenza, altrettanto nel caso di vendita di armi, coltelli a soggetti minori. Partiremo e ci sarà un comitato già dalla prossima settimana con delle comunicazioni di avvio del procedimento nei confronti dei soggetti titolari di questi esercizi commerciali e poi concorderemo le misure o sospensione o revoca a secondo della gravità di infrazione. Indipendentemente da quello che è l'orario di chiusura il tema della vendita dell'alcol ai minorenni è un reato e quindi noi lo perseguiremo con la maggiore energia possibile e anche fare schiamazzi e musica ad alto volume la notte non fa parte di quelle che sono le regole del decoro urbano. A questo si aggiungerà il rafforzamento dei sistemi di videosorveglianza a breve e in più ovviamente in alcune zone soprattutto nei fini settimane in previsione del periodo estivo soprattutto in alcune zone. Questo è un punto molto importante, la dotazione di personale in più che è arrivato da Roma è chiaramente insufficiente per le problematiche di un'area turistica come quella di Napoli, delle isole perché pensiamo a Ischia, Capri, pensiamo alla costiera sorrentina e i numeri che sono stati inviati sono largamente insufficienti se confrontati con quelli che sono stati mandati in altre parti d'Italia. Quindi io credo che su questo non ci deve essere sottovalutazione, ne abbiamo bisogno di più uomini delle forze dell'ordine per affrontare una presenza turistica che chiaramente porta economia alla città ma richiede un maggiore controllo del territorio.